come è già l'anno sulle due cose la casa è a 300 euro e poi sta roccando alle 200 euro quando prendono una macchina se lo faccio un p***o quando prendono una macchina a spesa rossa e poi mi dice vieni a casa paghi per le 5 e 50 per i m***i che spianni 155 mila euro a casa già ci ho portato a 165 senza picciolo e ci ho pagato un anno via ho messo la peggia per riuscire eh bagheria bagheria uscita bagheria appena alla prima occasione lo fermiamo alla prima occasione lo fermiamo andiamo proprio sullo svingo appena c'è l'autorario che è l'autorario devi mettere la mano qui vieni ok 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 eccola qua ecco